Ve lo dico a umma umma, ma ve rendete conto che cosa stanno combinando questi quattro incompetenti da 15.000 a 20.000 euro al mese? Qui fra poco scoppierà una rivoluzione perché la gente non ce la fa più fra norme che proprio non ci hanno né capo né coda. Ieri sentivo Massimo Castaldo, un euro deputato del Movimento 5 Stelle, direi poi adesso cercheremo di farci dare il più possibile fondi a fondo perduto, ma vi rendete conto, state affossando una nazione, state affossando l'Europa e ve lo dico da europeista convinto, non di questa Europa che non c'è, non da persone che piegano la testa di fronte agli olandesi che pensano che il bidet sia qualcosa dove si lavano le mani i nani, ma rendetevi conto di cosa state facendo, rendetevi conto, li potevate tenere tutti a casa per due mesi, per tre mesi, tiravate fuori i soldi, li davate all'agenzia delle entrate, un clic, soldi sul conto come sta avvenendo altrove, nel giro di 24 ore, 48 ore, una settimana, qui fra poco si torna a lavorare, è finita la gas integrazione ed ancora c'è gente che non l'ha vista, ma andate a farvi fottere tutti quanti, va!